Dopo almeno tre sopralluoghi sono entrati in azione, armi in pugno, hanno affiancato il furgone che trasportava quasi una tonnellata di sigarette del valore di 200.000 euro, hanno sequestrato il conducente e si sono impossessati dei tabacchi, ritrovati dopo poche ore a più di 100 chilometri dal luogo della rapina. Lo hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale di Foggia, coordinati dal procuratore della Repubblica di Larino, Ludovico Vaccaro. Con le accuse di rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e ricettazione, i militari hanno arrestato tre giovani di Vieste. Marco Raduano, 32 anni, ritenuto dagli investigatori a capo della criminalità del comune garganico, Gian Piero Vescera, di 26 anni, e Matteo Murgo, di 27, ricercata una quarta persona. Alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno ripreso le fasi salienti della rapina. Il fatto è accaduto lo scorso 16 giugno nella zona industriale di Termoli, lungo la statale 16. Il commando, a bordo di una monovolume, ha affiancato un furgone dei monopoli di Stato, costringendo l'autista a fermarsi. Il mezzo è stato trasportato in un capannone a poca distanza, dove i rapinatori hanno tagliato con un flessibile la lamiera e caricato a 900 kg di tabacchi su un altro camioncino. L'autista è stato poi abbandonato nelle campagne di Chieuti. Dopo alcune ore di cammino, l'uomo ha raggiunto un distributore di carburante e ha dato l'allarme. Nel frattempo, il commando si è nascosto in un capannone nelle campagne di Ortanova, dove ha catalogato le sigarette per rivenderle ai ricettatori. L'ingente carico di tabacchi, però, è stato subito recuperato dai carabinieri. Nei sacchi, la ditta di trasporti aveva inserito i sensori, che hanno lanciato i segnali captati dalla centrale operativa.